Sono oltre 30 gli espositori dei mercatini di Natale di Casa Lincontrata. Il paese del Chietina ha organizzato un'esposizione d'artigianato artistico, prodotti tipici del territorio di stagione, addobbi natalizi, idee, regalo e molto altro ancora. Quest'anno tante le specialità da gustare, passeggiando nel centro storico, pizza fritta, panini con gustose salse, cartocci di fritti pastellati, calda roste, dolci della tradizione, gli arrosticini e l'hamburger di pecora e l'arancino d'Abruzzo. Inoltre, presso i punti di ristoro, vini, birri artigianali, vin brulè e cioccolata calda. Ci sono tanti prodotti, infatti non gastronomia, ma ci sono tanti hobbystiche che fanno delle cose veramente bellissime, devo dire. Partecipo dall'anno scorso e presento qua i miei prodotti creati artigianalmente, dove spazio da presepi, da sfere e da composizioni varie. E sono contenta di questo evento, ha preso piede e la gente mi abbastanza partecipe. Allora, abbiamo quattro giorni di animazione, in cui chiudiamo il paese del Natale col villaggio di Babbo Natale. È un villaggio magnifico con tutti i gonfiabili di Babbo Natale, con un Babbo Natale all'interno c'è la consegna della letterina, ci stanno le caramelle, lo zucchero filato per i bambini.